Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Kiosaventure Questo è il mio migliore amico Frappa che non ci vediamo da tipo da Ib Noi proprio non ci vediamo da mesi non è vero però andiamo avanti Allora lui è venuto qui a giocare con me a questo gioco perché non sono capace e ho paura E Paola è in montagna Sì, Paola è partita Lei va in vacanze o no? Allora abbiamo ancora la mappa Voi comunque non potete capire perché stiamo indicando sulla mappa che voi non potete vedere Perché Gaia ha fatto lo screen nello scorso episodio Sono una brutta perspetta Eh non mi può andare Ok dai facciamo le persone serie Dovrei andare qua Sì There's always time for a cocktail Qua si è ferma no? Sì si è ferma E quindi? Wow non ci sarebbe arrivata la sola Non ci vuole niente Eh Io salverei però si può salvare Oh si può salvare non mi ricordo mai che quelle sono Che quello è il conto di salvato Con J Perché è invio Ok Come dovrebbe più capo Che Ia 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 Ti vuole lasciare un po' non ci serve Non dobbiamo lasciare niente Ricarica un po' no 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 Ok Quindi come sono dietro K Ok Quindi inventario Ledeva ancora imparare tutti i comandi poverino Vabbè basta R credo Che un po' con quella cosa di R Oh Fica Sì Va bene Mettiamo indietro Facciamo le persone serie e andiamo da quegli zombie che ci vogliono un po' Tu vorrei il culo Scaffiamo Scaffiamo Andiamo 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 Run run Calma di calma Ce la faccio Run rabbit Quindi ora che dobbiamo fare è andare giù Sì Però aspetta Dobbiamo combinare questi qua no Io comunque mi sono spoilerato la fine di questo gioco Sì infatti è una bruttissima Allora ha visto tutti i miei gameplay Poi E' andato su un altro canale e si è guardato alla fine E sta completamente fuori Cioè boh Gli ho detto non spoilerarmela e per ora non ha spoilerato Quindi credo vada bene Quasi passa sì Allora vai alla porta e poi metti i Allora prova a Metti questo Eh no apri il mondo capo Ecco Abba meglio Jay Usa Nothing happened Forse devo parlare con la porta Con Jay Jay Door is locked Eh no 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 Ciao ciao Prova sparargli No devi sparargli Perché se no non ti lasciano più in pace Con cosa si spara? Con Jay No ti cosi dici Non ci vorrei pensare come No E' scarica E' scarica scappa Siamo a 10 Inutile Come si fa? Che vita Ma cosa? Ma uccisa? Sì Ah mi uccide anche No pensavo andasse in pausa se mettevo l'inventario Pure io lo pensavo in realtà Che roba Aspetta Ora lo sappiamo Sì Ho salvato dopo che ho preso il No non l'ho salvato Fantastico Ecco perché bisogna salvare 20 volte Yes Poi non dobbiamo posare niente Giustamente Reclodiamo la gun Preparatevi a un video pieno di parole Mezzo in italiano Mezzo in inglese Che lui è così Tipo There is always time for a cocktail Ok che capisce questa citazione dello sposo No sì Ciao Venite qua dai No 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 Fatti seguire Fai in giro completo Ti fai No Detect pass Please suit up before you enter Traduci vai Penso di poter entrare nella camera Sì figli Sicuramente Sicuramente è brutto Il modo sicuro Il modo sicuro Here we go Ok Uh è rosa È una discoteca Io sì Ci sta Ci sta Vedi l'eclisi di questo gioco Si è bell' Mi fate Doi minuti Oddio perché 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 l'abbiamo salvato Perché l'abbiamo Puoi scelgli fuori L'ossigeno No ormai Dobbiamo salvare E' appunto Vabbè ormai Se facciamo Se filiamo Bisogna fare tutto il pezzo Quegli zombie Vabbè Eh sì Sono d'accordo Corri Ti fa passare il gioco Che devo fa Che devo fa Che devo fa Non toccare i denti Io li abito Quei cosi Grazie Non so cosa si chiamano Ma non toccarli Eh Niente Praticamente c'è il veleno Non me lo dimentiché Tradurre il bello Quindi E c'è l'ossigeno Insufficiente Della cosa Ma che ho fatto Un'altra porta Quindi che si devo fa Oddio ma perché Perché ci fanno questi due Che devo fa Devo andare in fretta Tipo Perfetto Sono bravo Madonna La prima volta Che gioco questo gioco Per la cronaca Sì Però ti sei chiesto Il gameplay No Solo la finale Cioè il tuo E la finale Il finale Il finale Non sono italiano Quindi Perdonatemi Ecco Mi danno fastidio Sì ma quanti siete Madonna Però mi danno fastidio Gli zombie Vabbè siamo In teoria Siamo Ma che ha fatto Ah sì I pulsanti Così Prima playstation Ma perché Questo è xbox E questo è nintendo Veramente Sì Ma che cazzo Io non le so Posso lasciare La biblioteca ora Finalmente sono fuori Penso di non aver più Bisogno Della Della tuta Antigas Ora Abbiamo levato La tuta Ero quasi Mio figlio Potevamo Potevamo Morrare Potevamo The fresh air Eh what the fuck Oh la chiave Della biblioteca ora Posso lasciare questo Posso L'inglese di questo gioco Seriamente mi fa ridere In maniera impressionante Ci sono più eroi Che cose giuste Il fatto che stiamo traducendo Però non rende Il divertimento Quindi io ora devo andare Nell'uscita qua Sì spero Potevi salvare Non abbiamo salvato Andiamo a salvare Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantama salvare sempre se lo stesso punto che te frega tanto mi frega stiamo a nove minuti quasi 8 minuti e 40 30 aspetta no perché è diverso e 40 perché praticamente per registrare lo schermo uso un'applicazione sul computer per registrare l'audio cioè l'audio perché altro i commenti che cazzo hai fatto? uso il telefono punti esclamativi una città cosa è successo in questo città cosa perché è stato distrutta diciamo ben dai e casa mia è stata distrutta anche casa mi sono distrutta prima devo trovare un posto sicuro e capire cosa fare dopo c'è un autobus un camion non lo so il calcio prendiamo le merendine una volta quest'anno wow fantastico che ci fa magari mi cura a che ci serve il libro per esempio no aspetta spaiato per me certe cose no rischiano la roba questa lattina di roba la roba veramente delizioso secondo me è avvelenata no possiamo crescere ancora si questa musica di vittoria c'è occupa solamente limitare ma il libro o lo sai il libro? quale libro? questo libro la roba la roba usa 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 ah ok come fare come fare come non far rivivere i nemici eh si rispawnare rispawnare risurre devi uccidere tutti i nemici una volta che arrivi in un posto nuovo se ce ne sono se ce ne sono oppure cioè praticamente dovete uccidere tutti altrimenti se uscite dalla stanza rispawnano senza veloce ok una sedia bello andiamo ma nooo ma da quando è diventata The Walking Dead questa cosa? qua qua eh non mi fa muovere che io oh mio dio zombie aiuto qualcuno mi aiuti si si aspetta non mi fa muovere Gio ma sei fuori di capocetta oddio chi è il grande ma bobo tu fai bobo io faccio il giro che vuolito tutto bene no tutto bene tutto bene sì sto bene citazioni mi ha salvata sì graffa ha ridotto tu mi ha ridotto ok basta non preoccuparti chiamami bobo come posso chiamarti sono tio ha la voce molto robotica bobo sono spaventata e senza speranza wow eh non posso entrare nel contatto con i miei amici perché sono morti se non mi avessi salvato sarei già morto no l'inglese di questo gioco ogni volta mi stupisce calmati per favore sei salva ora oddio e andiamo a casa mia ci prendiamo una pausa queste sono proprio le avance di quello proprio è più salva è più calda che di fuori io non c'ho a dire a casa ho intuoni arigatoooooo seguimi proprio qui ho detto che ho detto che avrei dato tutto buono tutto in quale lingua quindi per favore non commenta bobo mi sembra tipo uno stupratore seriale di qua per favore no sembra tipo il classico nerd che diventa psicopatico dove è entrato? è entrato nelle scatole si dai seguilo per favore seguiamolo ahahah ancora la mia casa è di sopra al piano di sopra sopra al piano di sopra there's always time for the cat cosa c'è qua? uuuuh cos'è? un'arma migliore credo prendi il fucile aspetta ma nessuno si chiede come mai a casa di questo gioco ci sembra non è la casa di questo gioco la casa sua è al piano di sopra la sua camera? no è la casa sua ah avevo visto che era un tipo un palazzo no? ah e abbiamo no io non credo questo è un altro di quelle cose che possiamo posare si vabbè posa il libro che ti serve lo occupa sullo spazio e anche la mappa che ormai siamo usciti dalla biblioteca no? si il telefono ti serve un cazzo però di niente possiamo no 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 dico il fucile lo possiamo no non credo con quei proiettili la non credo ammunizioni come dicevi ammunizio le famose ammunizioni no aspetta devo uscire ah è vero hint a powerful shotgun un fucile potente come si fa a tornare? potente sei minchiazzini proprio che cazzo è successo? dimmi che non devo censurare nulla dimmi che non devo censurare nulla dimmi che non devo censurare nulla dimmi che non hai mai ammunizioni 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 del fucile si ricordi con mia sorella pala mi ha illuminata finalmente prendi vabbè si si e prendi lì ancora dobbiamo analizzare eh aspetta carichiamo prima il fucile e appunto j col fucile 6 era k indietro no? dimentichiamoci i comandi analizzamolo di petto devi riposare in pace devi provo spero che tu riposi in pace oh mio dio oh mio dio oh mio dio oh mio dio vabbè passato no non abbiamo salvato oddio santo perchè ho spiegato di momenti ho spiegato di momenti no erano le munizioni che ho spiegato famose ammunizioni quante munizioni spiegate io secondo me no quella tipo quella tipo l'ha uccisa per forza il tipo ma lo santo bobo bobo il nome fantastico bobo è malefico bobo infame perchè sono le lame a me piace ok non è che ci spunta un altro zombie qua può essere adesso abbiamo 30 di sale cioè se bobo si è boccato se bobo infame non ci da un po' di salame no se bobo non ci da ma perchè si blocca leva il mouse perchè clicco fuori perchè clicchi fuori boh metti indietro dai non c'abbiamo il kit perchè non c'abbiamo il kit che l'ho usato ehm vai da bobo dai che ci cura come morire mmm si speriamo bobo è rimasto lì io non mi fido di lui però non lo fa neanche io salvo di puntaggio non so salvare lì si replace underpants questo che è questo che vabbè io ti prendo spero magari un kit di salvataggio ma chissà di beh questa è casa mia è salva è al sicuro è al sicuro non lo so non sono capace a parlare io ehm al momento è molto caotico fuori penso che staresti meglio qui arigato ehm comunque voglio ancora entrare in contatto con i miei amici e la mia famiglia in contatto in contatto posso usare il tuo telefono ehm ora i telefoni sono inutili non c'è la linea il segnale non lo so sembri molto stanca ehm io ho si una una tazza di tè drogata vuoi vedere ti preparo una tazza di tè drogata si non l'ha detto drogata però aspetta un secondo io me lo so questo è un assuratore seriale io non voglio cosa bobo allora aspetta il mini pony mi stanno muando da sola piccola parentesi lo sai che youtube mi ha ehm oddio come si dice age restricted come si dice in italiano mi ha ristretto cioè mi ha praticamente assegnato come contenuto inappropriato il mio video di The Sims 4 perché non lo so youtube ce l'ha con me non c'è un video uno solo dei miei 130 qualcosa che non sia vabbè serviti pure arigato no guarda guarda come succede quel cosa no è per forza drogato si 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 sta bevendo il tè non fare rumori molesti eh ecco mi sento assordita porti ci sono io lo sapevo eh 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 oddio sasso guarda 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 la censurona che dobbiamo fare perché mi sento stanca assonnata perché ho messo delle pillole addormentanti eh aspetta soniferi soniferi nel tuo bicchiere cosa seriamente no sto scherzando cosa vuoi eh chissà non l'ha ucciso lui quella tipo sul letto guarda guarda perché io lo sapevo sei stupida si infatti ce l'ho arrivata pure io mi sento un po' assetato bevi il tè dimmi che ha bevuto quello di lei che stupido cavolo l'ho bevuta che stupido sono stupido pure io oddio assonnato sei pronto al bestemme detta così adoro ehm aspetta devo legarle legarla prima 50 sfumatori di chi le leggo le mani cavolo troppo assonnato ehm legato le mani dovrebbe essere no problem dai l'inglese di costruzione seriamente stupendo la potina dopo dopo un dolce sogno un sogno dolce sonno sonno non lo so non so capace domini raga questa è censurata comunque tutto pixelato così non si capisce niente comunque se lo censura c'è tipo una baseball bat mazza da baseball che sta tipo volando e la sta picchiando sullo stomaco sì ma chi ho sì domini è nuda vabbè vai avanti è legata tipo io l'ho detto il quattro sfumatore che poi chi è che sta reggendo la mazza dai muoviti leggi chi ho ah è vero allora domini dice aiutami uomo 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 dai aiutatemi per favore ah domini oh my god quello era un sogno cosa mi è successo ho dormito perchè ho dormito ah è vero perchè ho dormito eh eh nani che poi è canadese non dica canadese di cui uno è ah 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 le mie mani non possono muoverle eh eh deve essere stato deve essere stato quel tipo no si ah 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 co non dire quella parolaccia cacca eh se quella merda mi ha fatto qualcosa di male merda eh tanto tutti i testo punto 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 quindi tanto va non dire parolaccia è brutto non dire parolaccia i think cosa significa questa frase non può essere devo stare calma devo stare calma ma se l'ha fatto come posso oddio io lo sapevo che ero uno stuporatore serial quello è pace impossibile bene sto ancora indossando i miei vestiti wow ma cosa vuole farmi eh ci sa me lo chiedo mi sa che a babbo i genitori da mi sa che a babbo i genitori da piccoli hanno fatto succhiare le batterie si ad ogni modo è una buona possibilità è una buona possibilità per correre mentre dorme correre via quindi ho le mani legate analizziamo un po' di roba eh quindi non possiamo prendere la roba ci sono dei fumetti molti sono dei porno praticamente ok ok ci sono delle figure 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 di person action figures delle donne nude eh we machine quella è una we una console we mi manca nei giorni in cui giocavo con gli amici con gli amici e una scatola di fazzoletti sulla scrivania vabbè non analizzare tutto se sta dormendo si insensamente si si keep quiet ah keep quiet si 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 qua che c'è è chiuso tutti tutti i suoi oggetti nooo che palle la vita siamo a 30 poi di salute ma che no vabbè magari troviamo qualche kit secondo me no però ci abbiamo ancora le mani legate è chiuso e poi come facciamo a aprire le porte attestate proprio prendiamo attestate tutto perché io l'apre con le gambe vero vabbè aria condizionata dai condi no aspetta ho scritto bene sono dislessico io volevi rossare ma non ero stato sei rimasto rossato posso scappare no devo prima slegarmi le mani scommetto perché da qua se esce no è chiuso dovrei trovare una chiave per aprirlo ok vai da questa parte eh lo so che sto andando calma sto andando piano perché ha le mani legate giustamente no eh quindi ha le mani legate ha un collegamento con le gambe questo qui ci dovrebbe essere qualcosa per tagliare la corda dalle mie mani fammi vedere in giro è quel piatto là rotto però prima non utilizziamo altra roba si così va organi insanguinati vero vuoi vedere che è cannibale voglio vomitare vuoi dire che è necrofilo no come no oh spoiler un lavello con sangue lavabbo un lavabo acquaio arme arme umane braccia umane arme mi devo sbrigare a uscire mmm qualcosa mi dice che là dentro ci sarà addomini no no la sto ancora vivendo la sto ancora picchiando la baseball bat quasi bellissimo c'è una chiave però bello come fa a prenderla cos'è questo? spaventoso perchè ci sono due tesse nel frigo perchè ne voleva tre che poi io sto traducendo in modo letterale no perchè è molto trash ah vuole fare lo stesso vuole fare lo stesso come aspetta c'è una chiave l'ho detto io come fai a prenderla è appunto ah devo liberare un po' di realismo per favore allora ti liberi le mani dopodichè terminiamo l'episodio e tutti rimarranno con no aspetta prendiamo la chiave la chiave però no no perchè succederà sicuramente qualcosa tipo spunterà lui non lo sento allora aspetta vabbè facciamo finire il dialogo ok finalmente ho le mani libere devo scoprire come riavere i miei ingranaggi no oggetti in questo caso si ingranaggi ok fermo terminiamo qui questo episodio noi speriamo che vi sia piaciuto con il suo proprio commento di proprio di class there is always time for a cocktail si esatto e noi ci vediamo nel prossimo video e qui ci sarò anch'io ovviamente esatto ciao a tutti so che mi odiate